La situazione cinese, lei sa bene che il modo di affrontarla è stato molto diverso in Cina o in generale in buona parte di paesi con minore accesso alla libertà rispetto a quello che hanno avuto i paesi occidentali, quindi io credo che sia difficile paragonare quello che sta avvenendo in Cina rispetto al resto del mondo. Da noi il virus ha circolato molto di più perché siamo stati indubbiamente meno bravi a contenerlo. Abbiamo raccontato con Mirta la storia di qualcuno che con un tampone positivo è rimasto chiuso in un albergo per 30 giorni in Cina senza che potesse vedere nessuno portandogli il cibo da sotto la finestra. Credo che questo da noi in modo occidentale per fortuna non è avvenuto, questo possiamo dirlo. Per quanto riguarda i vaccini, io credo che bisogna fare uno sforzo come Europa per approvare rapidamente il vaccino russo perché al di là del vaccino cinese e cubano che hanno anche loro qualche dato interessante, abbiamo dei dati pubblicati sulla più prestigiosa rivista europea che dice che ha un'efficacia vicino al 92%, è un vaccino a vettore virale simile ad AstraZeneca, peraltro semplice per la conservazione, in due dosi bisognerebbe aprire e poi farsi anche interlocutori come Italia col mondo russo. Perché abbiamo descritto i russi un po' come una sanità e una tecnologia che non funzioni, abbiamo sbagliato, perché i russi sono primo degli ottimi medici, secondo degli ottimi scienziati, terzo hanno una tecnologia importante, per cui chi li ha dipinti come Italia ha fatto un gravissimo errore. Allora scusami, è arrivato...